mi ha portato appunto a sviluppare questo lavoro. La struttura di un motore di integrazione artificiale è completamente da tre componenti. La parte del sistema è che si occupa della gestione di come prendono dei disegni personaggi, il movimento e come si muovono all'interno del livello, lo strategico, gestisce le dinamiche di rufo e le dinamiche di tipo strategico. Questo sistema quindi si interagisce col mondo e ha come output l'animazione e la pubblica dei personaggi. Quello di cui mi sono occupato fa parte dello strategico e del movimento. Si pratica un movimento di tipo strategico. Un movimento di tipo strategico è un movimento che richiede una conoscenza accurata del livello, dei punti di punto di vista.